Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al chiostro Caffè Letterario a Piazzetta San Domenico per la presentazione di un libro, La segregazione delle persone con disabilità, i manicomi nascosti in Italia. In mia compagnia abbiamo Nunzia Coppedè che è Presidente della Fisch Calabria e lei sarà proprio qui oggi per presentare questo libro insieme agli altri due relatori. Chiediamo a Nunzia proprio di cosa tratta questo libro anche se l'idea è già data dal titolo. Allora questo libro è il risultato di una ricerca, di una ricerca che è stata fatta dalla Fisch nazionale utilizzando tutte le fisce regionali per cui hanno partecipato 15 regioni. Si tratta di un progetto che voleva tirare fuori degli indicatori che in qualche modo precisassero quando una situazione è da definire segregazione e quando no. Questo perché con le persone con disabilità c'è sempre questo alto rischio. Essendoci comunque strutture e luoghi in cui le persone con disabilità vengono anche portate nella loro vita a vivere residenze di tutti i tipi e molto spesso ci si ritrova a condurre una vita che non è certo di qualità ma è di segregazione. Nunzia, la parola segregazione diciamo noi la richiamiamo molto alla segregazione razziale delle persone di colore nell'apartheid appunto dell'America segregazionista. Segregazione in questo senso è, come stavi spiegando tu, il fatto di lasciare una persona ad esempio in un luogo e chiuderla lì e non lasciarla libera di evolversi o comunque di svolgere delle azioni quotidiane in questo è oppure vuol dire qualcos'altro? In questo senso segregazione significa intanto portare la persona a causa della disabilità in un luogo altro che non sceglie, dove non è che chiede di andarci o desidera andarci perché ci sono persone che conosce, perché è un ambiente che gli è familiare, perché ci sono, si fanno delle attività anche interessanti per la sua vita o cose del genere. È un luogo dove viene portato solo perché è una persona con disabilità e allora al momento che uno si trova comunque a vivere forzatamente in un luogo che non sceglie con persone che non conosce e magari non ci vorrebbe neanche vivere a fare delle cose che non vuole fare e lì la segregazione comincia a essere evidente ma noi abbiamo voluto approfondire con questa ricerca perché proprio per dare un contenuto più approfondito di quello che definiamo segregazione perché poi, sa, oggigiorno esistono anche diverse tipologie di servizi e allora dice segregante o no. Prendiamo ad esempio un centro di urno, un centro di urno dove alcune persone di giorno vengono portate perché hanno una difficoltà, una disabilità anche grave magari e vengono portate perché magari uno pensa che dentro casa si stancherebbero perché non hanno alternative e perché così anche la famiglia in qualche modo ha un po' di sollievo e riesce di più a mantenerla a casa. È comunque una risposta, si potrebbe dire che non è una segregazione. Già il fatto però che comunque lì non è che uno ci va perché sceglie di andarci perché ha voglia di andarci ma ci viene portato per liberare altre cose è un luogo che in qualche modo potrebbe diventare una segregazione. Nunzia, un'altra domanda importante. Ci sono delle età nel senso un ragazzino, mettiamo caso, piuttosto che una persona adulta viene portata in questi centri non di sua volontà. La segregazione nasce anche dal fatto che i genitori o comunque delle persone se ne vergognino e quindi magari scaricano la responsabilità sul centro e quindi su un aspetto della società che forse non è pronta? Diciamo che tutto ciò che in qualche modo è altro da quello che potrebbe essere una vita di condivisione con la persona che cresce e desidera fare determinate cose fare tante esperienze con tutti gli altri ma lo porta in altri ambienti in quel modo già comunque può rassentare la segregazione. Noi abbiamo approfondito molto perché poi potremmo dire che c'è segregazione e segregazione, no? Cioè in alcuni casi magari non è segregazione, è esclusione è esclusione sociale. Ci sono altre tipologie che comunque sono lontane da quella che è l'inclusione sociale che sarebbe il massimo. La segregazione credo che sia più da abbinare proprio in quei luoghi dove uno non sceglie di andarci, non sceglie di fare quel tipo di vita e non ha nessuna possibilità di evadere. Questo è senz'altro più il discorso della segregazione. Io ho scritto su questo libro, ho portato la mia esperienza di segregazione no? E su questo libro ce ne sono alcune, ce ne sono tre di esperienze di diverso tipo no? Certo la mia risale molti anni fa e tutti potrebbero dire ma forse adesso non è più così. E io qualche dubbio ce l'ho perché se penso che in fondo non sono molti anni che qui abbiamo chiuso l'istituto di Serra d'Aiello e lì non si poteva dire che non era un luogo di segregazione. Lo era, lo era sotto tutti gli aspetti. Oppure, ma lo è anche oggi tante anche tante residenze, non è neanche tanto una questione di numeri. Allora, sono convinta che i grossi numeri favoriscono la situazione di segregazione, la favoriscono. Però può diventare segregante anche un luogo con pochissime persone. Perché il problema è quello che tu, dove tu sei lì una persona, cioè ti spersonalizza il fatto che c'è sempre qualcuno che pensa, che vede, che sente, che fa quello, che pensa che tu devi vivere in quel modo, che tu debba fare questa cosa, che tu debba andare a letta a quell'ora, che tu debba leggere questo, che tu debba... Allora, ecco, è una violazione della libertà e del diritto anche di... è inumanizzante, come si può dire? È disumanizzante, la segregazione è disumanizzante. E chi l'ha vissuta, infatti il mio pezzo è intitolato Nella pelle, perché chi l'ha vissuta anche dopo tantissimi anni la riconosce, la rivive ogni volta che se ne presenta un'occasione. Questo significa che colpisce profondamente. Diciamo dal discorso che tu stai facendo adesso emerge una doppia violenza, cioè la violenza nell'essere disabilitati in quanto disabili per non essere messi in condizioni dalla società di evolversi e quindi di esprimersi e poi essere ulteriormente abbandonati in una condizione dove nemmeno un bambino o un anziano, io penso anche alle case di riposo, quando gli anziani vengono abbandonati letteralmente lì, hanno la possibilità di uscire. Forse solo vivendolo sulla pelle si può capire e aprendo gli occhi ci puoi dare un'idea di come poter fare a far emergere il problema, perché alle volte capita che se non non ascoltiamo proprio la voce di una persona che ha vissuto la segregazione è difficile capirla dall'esterno. Sì, è molto difficile perché gli altri si pongono il problema che siccome tu sei una persona con disabilità hai dei bisogni accentuati, particolari, hai delle difficoltà per cui loro pensano che ci possano essere delle risposte che in qualche modo ti proteggono da questa situazione e ti danno comunque un tenore di vita ma quella è la vita che vogliono loro, non è quella che voglio io. Per cui è questa la grande difficoltà a far capire infatti noi diciamo sempre, il nostro motto è nulla su di noi senza di noi, perché siamo stanchi di aspettare che altri decidono di come dobbiamo vivere noi. Pensiamo che noi siamo quelli che ne sappiamo di più perché conosciamo i nostri bisogni, le nostre difficoltà e meglio di noi non li conosce nessuno. Per cui, ecco, paradossalmente questo problema lo si può rimuovere soltanto insieme ad altri problemi attraverso una partecipazione attiva delle persone che vivono la situazione, ma perché ci sia una partecipazione attiva pur è necessario che le persone con disabilità divengano consapevoli e molto spesso l'esclusione sociale praticamente smorza la consapevolezza e anche molte persone con disabilità pensano che non sono in grado di decidere per loro e aspettano che qualcuno li decida per loro.